La qualità delle acque del mare abruzzese potrebbe essere un ottimo biglietto da visita in chiave turistica. Il mare è pulito, come emerge dalle prime analisi condotte dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Soprattutto i balneari sono fiduciosi e dicono che ci sono tutti i presupposti per cominciare al meglio la stagione estiva. Il presidente regionale del Sib Conf Commercio Riccardo Padovano a nome dell'intera categoria esprime soddisfazione e anzi spera che si possano incrementare anche le bandiere blu. Far sapere ai cittadini che il mare abruzzese il 99% è balneabile, Pescara 100%, Montesilvano 100%, vabbè tutta la costa abruzzese. Voglio aggiungere che forse l'Abruzzo si doterà di un'ulteriore bandiera blu, non lo dico per scaramanzia, quindi aumenteranno le bandiere blu. Pescara secondo me la riprendiamo di nuovo, più sì che no. E dico che queste sono le belle notizie da cui adesso dovremmo farci investire su una campagna di promozione del turismo balneare. Diamo l'opportunità di pagare l'ombrellone a rate senza interessi, stiamo facendo dei pacchetti turistici, stiamo mettendo in piedi iniziative che facciano visitare chi viene da fuori, sia la costa che la montagna. Una sottolinea da fare all'assessore regionale, promuoviamo di più se possiamo anche attraverso i media, ma non andando a Londra e a Parigi. Incominciamo dal Lazio e anche dalle regioni che stanno un pochettino più a nord. Qualche locandino nelle aree metropolitane, viene in Abruzzo, si mangia bene e paghi poco. E anche consentire la stazione Tiburtina, per esempio, lo dico poi, chi viene da Roma, se prende il pullman, trova il biglietto pagato e trova l'ombrellone a un prezzo straordinario. Mettiamoci in donna a Londra, vediamo di dire, adesso la pandemia è finita, dobbiamo investire per mantenere quei numeri che abbiamo fatto gli scorsi anni. La stagione riapre il primo giugno, ma noi già siamo pronti per far gioire un po' di bagnanti che vogliono venire al mare. Grazie a tutti.